Da questa mattina nelle zone periferiche di Eboli sono partiti gli interventi di ripristino di alcune strade comunali. Per troppi anni, si legge nella nota dell'amministrazione comunale, non è stata fatta nessuna manutenzione sulle strade, che si sono ridotte in pessime condizioni. L'intervento in questione serve a tamponare in attesa dei progetti di rifacimento del manto stradale riguarda la maggior parte delle strade periferiche. In particolar modo, contrada la storta Papalenone, Tavernanova e alcune zone di Campolongo. Un grazie particolare, afferma il sindaco Conte, all'assessore alla manutenzione Antonio Corsetto e al responsabile dell'ufficio manutenzione Francesco Mandia, con i quali abbiamo lavorato per programmare questi interventi. Cerchiamo di dare risposte ai cittadini in tempi brevi.